Ciao Astronomers! In questo video ti avrei portato connetto il generatore di Giotto e attaccare l'alto cover al fronte del tuo telescopio. Questo set up ti permette di automata di acquistare l'acquisizione di frame flat e rimotamente abbonare o cercare il tuo telescopio. Perfetto per fotografia di astrofotografia e osservatori rimani! Prima di tutto, se ti usi Giotto con l'alto cover al fronte, non devi usare i sottotitoli con Giotto perché l'alto prenderà il Giotto in place. L'alto è definito per attaccare il bar del telescopio usando l'alto plus opzionale, compatibile con le bar di Vixen e Los Bendis. Se il tuo telescopio non ha, o ha una bar di dovetto corte, common in refractori o Newtonian, puoi aggiungere un bar più lungo per posizionare l'alto appunto o sotto il fronte del tuo tubo ottico. Alternativamente, se preferisci non usare il clamp plus, puoi montare l'alto direttamente su una parte metallica del tuo telescopio. assicurare la superficie metallica per dissipare l'alto dal motore dell'alto. Usando l'alto M6 con il cuore e il ring e l'alto inclusi in l'alto box, assicurare Giotto all'alto. connesso di l'alto. Connessi alto alla bar di dovetto e inserisciare Giotto così che il suo panel illumine sia centraio sul tuo telescopio. Per fare questo, usate il slot in l'alto di l'alto per benvenire la posizione verticale per tenere il giotto, assicurando che sia perfettamente inserito con l'axis optico del telescopio. Ricordate che il pannello Giotto deve essere più grande che il tuo tubo del telescopio o il tuo scelto, per copertura di apertura completa. Colleggiare il cavolo di 12V e il cavolo di USB da Alto Sport al Giotto di una volta. Poi, prendete il cavolo di coppia di coppia di coppia di coppia in alto e li attacca al Giotto usando l'em6. Il cavolo di coppia di coppia di coppia di coppia di USB e 12V, assicurando che si rotano sicuramente con la coppia di coppia. Questo set up permettono che i due dispositivi di essere potenti e controllati per Alto, semplificando il gestione di coppia di coppia. Finalmente, connessi il porto di Alto USB-C al tuo computer o Eagle e poi importi il porto in 12V alla tua source di coppia. Ora puoi usare il software di play sul tuo computer e il wizard di calibrazione per impostare la posizione aperta e ferma di Alto, assicurando che il Giotto coppia e non coppia la tua apertura corretta. Una volta calibrato, puoi controllare Alto e Giotto direttamente da play. Da un software di terza parte all'interno del pallone di coppia di coppia di Ascom driver, o via il virtual handpad, sul tuo smartphone o tablet. Se ti sentite una piccola esitazione o gap, come l'alto rotazione del Giotto, questo è normale e succede quando il peso del Giotto transisce da un movimento in alto a un movimento in alto, o dall'opposito, e il backlash in la posizione del drive sottolinea. Comunque, questo deve essere minimale e se ti sentite molto backlash, soprattutto se fosse causato da forzare la rotazione manualmente dell'alto, puoi prima di tutto controllare che il screw di coppia qui è forte. Se ancora c'è un grande backlash, perdite l'alto di coppia, rotate l'alto di coppia, Since the motor shaft is not visible, you'll need to make small adjustments more times to find the right alignment. Once aligned, tighten the grab screw firmly. That's it! You successfully connected Giotto and attached Alto to your telescope, enabling automated flat frame acquisition and remote opening and closing of your telescope. For more content that will help you to explore the universe like a pro, subscribe to our channel and Clear Skies!